Ragazzi, a quanti di voi è capitato dopo il primo lancio di avere l'amo completamente spuntato? Un nervoso inimmaginabile! Hook Clip, questo nuovissimo accessorio, potrebbe essere la soluzione a questo problema. È semplicemente un uncino di metallo che, legato al nostro terminale, ci permette, in una manciata di secondi, di sostituire l'amo senza dover cambiare tutto il terminale. I passaggi per la costruzione di un terminale con questa Hook Clip sono semplicissimi. Dapprima scelgo l'innesco, lo vado a innescare. In secondo luogo, leggo questa Hook Clip con un nodo senza nodo e alla fine, per bloccare l'amo una volta inserito, ci faccio scivolare sopra un kicker. Il montaggio è semplicissimo, il rig è un rig molto molto semplice, proprio come piace a me, e sicuramente infallibile.